Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovissimo video, io sono Pilot, abbiamo questa casa a casa e oggi siamo qui con colta a livello 7, ad oggi andiamo da due coppie a grado 15 e lo dobbiamo portare a grado 15 come ben vedete iscrivetevi al canale, seguitemi su instagram di melgb se volete entrare in questo bellissimo clan che abbiamo 120.638 coppie entrateci che dobbiamo crescere tantissimo niente ragazzi guardate io sono salito di tante puoi fare un video di dove porterò a grado 20 se ci riesco per ora, ora dobbiamo portare a colta e niente ragazzi, dobbiamo copperare speriamo di vincere niente, andiamo, 3, 2, 1, partiamo ok ragazzi, allora lasciate un bel commento io mi metto un cuoricino come se avete visto il video di questa volta ho salutato una persona che si chiama Tizio92, lo saluto anche in questo video e niente comunque ragazzi, dobbiamo copperare se no non ce la facciamo se no, se facciamo altre reali il video dura poco quindi spero di arrivare al secondo oppure terzo vediamo un po' che c'è Spike Beryl Spike Beryl Frank Frank là avvenenato quindi c'è anche Corvo ed il primo poi Cult cioè io bello Spike il primo ok ma ragazzi non attacco perché tengo paura di perdere dopo ho perduto anche le coppe quindi è meglio che non attacco e vorrei cioè voi sto camperando ok là c'è un Frank iniziamo in 6 non so se andare al centro ragazzi dai una bella iscrizione attivate la campanellina mi faccio coraggio e vado al centro ok quello là ha poca vita ah niente ragazzi l'ho detto perciò non volevo busciare e niente più 5 ok 3 coppe mancano buono comunque ragazzi vi prego entrate in questo bellissimo clan guardate c'è uno che ha 9.869 poi c'è mio cugino watch our death 8755 comunque dobbiamo crescere in questo clan perciò tantissimi di voi devono entrare nel clan e mille coppie ci vogliono niente dai andiamo e consigliatemi una challenge da da fare nei prossimi video e lasciate un bel commento qua sotto mi metto un bel coricino vi saluto ok ok interessante ok quel bull mi fa un po' paura perché bullizza ok andiamo andiamo no 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 siamo morti in cranberry speriamo che io sono morto dopo va a dire eh no sono morto prima no non so ragazzi però ci manca una quarta posizione arriviamo dai ragazzi ragazzi per questo video eh tiratemi la hashtag hashtag ehm vediamo un po' ci penso ok con la chest due chest addirittura ok 468 nel frattempo le diamo ok non voglio usare questi perché tengo paura che c'è un'anita là dentro cioè c'è un'anita là dentro ora ci mettiamo un po' a camperare qua ok nel frattempo ehm una bella iscrizione seguitemi su instagram vi lascio il link in descrizione e ragazzi ehm la prossima volta porto il video di io tanto spoiler tanto non fa niente porterò il video di ehm critical hopes come siamo arrivati a 5 like come l'altra volta ehm nello scorso video no nell'altro scorso video prima del video di blue stars che avevamo fatto la challenge ok 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 ferma nora che scienze mi sono stato manca una volta mi sembra no no due copie due copie ragazzi ok ragazzi ok ragazzi comunque prima stavano un hashtag hashtag colt una colt una no colt camperone anzi colt camperone hashtag colt camperone che ragazzi camperiamo come sempre eeeh speriamo di arrivare almeno a quinti però rischiaviamo pure secondi buonissimo anche a quattro eh sta tanto ci manca anzi no 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 dobbiamo arrivare più forza o quinti o quarti se no se no se no perché non da più due mi sembra giusto là qua scriviamo qua sotto le commenti perché se mi sembra che da zero poi non non so però mi sembra di sì ok prendiamo questo chi c'è là dentro nessuno ok qui l'ha poco capito da notare la mia mira non non notatela ma ragazzi ma speriamo che sì ragazzi yes grado quindici colt hashtag colt camperone e vinci le coppe ok 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 ragazzi ok va beh ragazzi con questo video concludo qua è stato semplicissimo prossimo video o porterò a cioè forse ragazzi non faccio video non porterò video per due giorni per fare gessi a grado quattordici e poi fare il video che la porto a grado quindici oppure non so oppure domani arriverà un altro video di critica loops e vabbè ragazzi con questo video concludo qua lasciate un bel piacere iscrizione al canale fate iscrivere a tutti quanti che conoscete niente seguitemi su instagram link in descrizione ciao ciao raga bella ciao ciao ciao